ciao, ciao, ciao Dove un testo? Cos'è la buona? Non è decisionsi che dimenticanze. Cos'è la buona? Cos'è? Non so se che vieni da un testo! C'è chi? ma la spazia eeeh io camere bucea ormai non ma eeeh 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 oh oh whoo 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 , eeeh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti